bicarbonato di potassio super concentrato purissimo ragazzi contro la bolla del pesco guardate qua che spettacolo è eccezionale è miracoloso perché questa pianta adesso vediamo l'altra ha ricevuto sì tre trattamenti invernali a base di rame ma poi ho iniziato i trattamenti con il bicarbonato di potassio questo k plus dalla ripresa vegetativa fino adesso fino al 20 maggio ragazzi non c'è la bolla del pesco neanche una foglia adesso vediamo invece le altre piante che cosa hanno come bolla del pesco un macello questa invece è l'altra pesca che ha ricevuto solamente due trattamenti con il rame invernale e poi non ho fatto più nulla guardate qua quanta bolla del pesco c'è è impressionante però adesso non vi preoccupate anzi mettetevi seduti perché vi spiego per file per segno tutto quanto tranquilli non vi perdete nulla e dopo tanti sforzi ce l'abbiamo fatta ce lo abbiamo anche noi il bicarbonato di potassio k plus il purissimo quello super concentrato ragazzi questo è fenomenale adesso vi spiego un po avete visto che io vi ho abituato già ad utilizzare il bicarbonato di potassio per non dare troppo rame perché il rame è pesante è un metallo che rimane lì a lungo sul terreno utilizzando quel bicarbonato di potassio un po così non è puro che serve soprattutto per di acidificare il vino beh adesso pier giorgio si è fatto fare questo bicarbonato di potassio super concentrato purissimo appositamente da utilizzare sui nostri ortaggi e sulle piante per combattere moltissime patologie fungine come l'oidio la botrite piuttosto che la ticchiolatura perché ragazzi la differenza su un bicarbonato di potassio piuttosto che l'altro la fa la sua bontà la sua purezza la sua concentrazione ed oggi ce lo abbiamo vi dico subito questo qua lo trovate nel box informazioni come scheda tecnica in modo che qualsiasi cosa io mi dimentico da dire la cliccate lì trovate le dosi modalità di utilizzo distribuzione e così via e trovate anche il link per poterla acquistare perché questa è una novità non la trovate in giro quindi avrete il link del principale di difesa piante ma anche per chi ama quelle piattaforme amazon ed ebay adesso andiamo un po parlare di questo bicarbonato di potassio che cos'è a che cosa serve per chi è magari un po novello per chi inizia a lottare un po con gli ortaggi e con le piante da frutto a tenerle su belle vive leggete e in vigore e dai non ci perdiamo in ulteriori chiacchiere parliamo un attimo del bicarbonato di potassio ragazzi questo è concentrato al 99 per cento e puro al 100 per cento è uno spettacolo è un sale praticamente è il sale di potassio dell'acido carbonico una formula molto semplice per i chimici k h co 3 voi non vi dovete preoccupare per niente praticamente facciamo così facciamo una cosa molto semplice spiccia come siamo noi contadini questo abbiamo detto che è un sale trattiamolo come se fosse il sale della nostra cucina che facciamo quando dobbiamo fare due spaghetti prendiamo l'acqua e ci mettiamo giù il sale della cucina giriamo ben bene e si scioglierà la stessa cosa facciamo con questo bicarbonato di potassio ne prenderemo il quantitativo giusto la dose e poi l'andremo a vedere la mettiamo nell'acqua giriamo finché sia sciolto tutto quanto beh chiaro che invece di farci due spaghetti ci andremo a trattare le nostre piante da frutto e gli ortaggi praticamente il bicarbonato di potassio dato sulle piante sugli ortaggi agisce in tre modi differenti per contrastare combattere le patologie fungine uno siccome è un sale e avrà una soluzione che rimane sulla foglia alcalina che vuol dire che il ph tende verso l'otto ecco che siccome tutti i funghi amano invece un ph tendente all'acido quando si trovano in una situazione opposta quindi alcalina e beh non vivranno più felici e contenti come facevano prima ed ecco che la prima azione è proprio questa alzare il ph superficiale della foglia la seconda azione contemporanea alla prima è quella una volta che ho trattato la pianta di aumentare la pressione osmotica sulla cellula fungina e la concentrazione dei sali esterni facciamo così facciamo sempre una cosa semplice da contadini quando voi dovete siccare i pomodori che fate tagliati in due pomodoro tra bello profumato e ci mettete sopra il sale da cucina e vedete che il pomodoro si asciuga tutta l'acqua viene fuori lui fa la stessa cosa il bicarbonato di potassio sulla cellula fungina la disidrata l'asciuga e cari ragazzi e ben presto morirà come terza azione sempre contemporanea a questo trattamento è quella che siccome ha aggredito questa cellula fungina il prodotto che magari avevamo fatto prima a base di rame lo zolfo quello che abbiamo dato l'equisito naturale penetra all'interno del fungo stesso ed ecco che la terza azione è miracolosa abbiamo davvero risolto i problemi ecco che queste tre azioni tutte messe insieme possono darci davvero una mano nell'agricoltura a limitare l'uso del rame che è sempre un metallo pesante però queste azioni le fa il bicarbonato di potassio super concentrato e purissimo non quelli così che hanno una concentrazione bassa quindi cerchiamo adesso di accantonare quei bicarbonati di potassio che sono i deacidificanti del vino scusate mi stavo impappinando e utilizziamo questo qua concentrato visto che finalmente siamo riusciti ad averlo a disposizione ma adesso prendiamo la macchinetta dell'acqua ramata facciamo un bel trattamento sulle piante da frutto sugli ortaggi in modo che riconoscete anche voi quali sono le patologie da combattere come si utilizza le riconosciamo anche insieme andiamo subito adesso vediamo quali sono le dosi necessarie per proteggere e combattere i nostri ortaggi ornamentali alberi da frutto e tappeti erbosi le dosi sono scritte qua dietro sono semplicissime ci va da 30 a 50 grammi ogni 10 litri di acqua di questo bicarbonato di potassio il che corrisponde tra 3 e 5 grammi ogni litro di acqua non vi potete sbagliare gli intervalli di trattamento ossia tra un trattamento e l'altro sono 10 12 giorni aspettate almeno 10 giorni dopo aver fatto un trattamento prima di fare il successivo apriamo la confezione togliendo la lingua di plastica tappo semplicissimo da svitare dentro avete il vostro misurino in plastica eccolo qua e si presenta in questo modo qua bianchissimo purissimo dei piccoli granuli eccolo qua facciamo un trattamento prendiamo un elettropompa come questa facciamo 10 litri in 10 litri di acqua ripetiamo le dosi ci vanno tra 30 grammi e 50 grammi ci poniamo ad una via di mezzo dobbiamo utilizzare 40 grammi di bicarbonato di potassio in 10 litri di acqua ora ci si presenta un problema perché per pesarlo dobbiamo avere una bilancetta di precisione però io vi do una dritta quando fate questi quantitativi da 10 litri in poi date retta a pier giorgio allora vi dico che il bicarbonato di potassio pesa due volte l'acqua e allora se io devo utilizzare questi 40 grammi io basta che misuro con il misurino 20 cc e so che sto pesando 40 grammi appunto perché il bicarbonato di potassio pesa il doppio dell'acqua adesso che faccio una volta che mi sono pesato il mio bicarbonato di potassio 9 litri di acqua li metto dentro l'elettropompa ed un litro di acqua me lo tengo per fare una soluzione concentrata e dovrò girare purtroppo con un po di pazienza per chi non ha molta pazienza può anche mettere dentro il bicarbonato di potassio ad aspettare un quarto d'ora che vedrete che vi si è anche quasi sciolto da solo comunque girate ben bene sciogliete fino all'ultimo granello di bicarbonato di potassio tanto lui pesa più dell'acqua lo notate che se rimane sul fondo dovrete ancora girare una volta che non c'è più sul fondo avete fatto se girate così in un minuto il gioco è fatto una volta fatta questa soluzione concentrata l'andremo a mettere direttamente nella nostra elettropompa andiamo a vedere tutti quanti trattamenti che possiamo farci contro la bolla del pesco ragazzi e chi è che non ce l'ha avuta eccola qua allora una volta che avete fatto i vostri trattamenti a base di rame invernali quando vi si presenta la bolla del pesco in primavera fate i trattamenti con questo k plus cercheremo di difendere la nostra pianta dopo qualche giorno dal trattamento le foglie malate inizieranno a seccarsi e cadranno la pianta rimarrà solamente con le foglie verdi bella fresca sulle fragole ragazzi poi pian piano vi accorgerete che loro diventeranno sempre più belle sempre più rosse sempre più dolci è naturale il bicarbonato di potassio chiaramente contiene potassio ed il potassio migliora la colorazione e la dolcezza quindi la concentrazione di zucchero all'interno dei frutti è uno spettacolo utilizzatela poi sul pomodoro contro la peronospora la stiamo vedendo qui ma anche contro la cercosporiosi la stiamo vedendo qui e anche contro le altre patologie fungine trattamenti in tarda serata 5 grammi ogni litro di acqua non vi potete sbagliare sulla vite ci è da davvero una marcia in più contro la botrite contro la peronospora che stiamo vedendo qua contro l'oidio anche chiamato mal bianco ragazzi tre grammi e mezzo quattro grammi ogni litro di acqua e abbiamo risolto i problemi sulle zucchine contro l'oidio ragazzi è davvero spettacoloso tre grammi e mezzo quattro grammi ogni litro di acqua utilizzatelo chiaramente anche sui cocomeri e sui meloni non c'è problema sulle piante di peperone melanzana contro la peronospora 4 5 grammi ogni litro di acqua eccezionale sulle fragole contro la botrite ragazzi è davvero un tocca sana tre grammi e mezzo quattro grammi ogni litro di acqua è sufficiente di trattamenti poi ce ne sono ancora molti altri non posso elencarli tutti praticamente tutte le patologie fungine che noi conosciamo il bicarbonato di potassio come avete visto con quelle tre azioni riesce a prevenire e bloccare la maggior parte delle patologie fungine ad esempio anche quelle sul khaki sul fico insomma utilizzatelo tranquillamente perché è un prodotto assolutamente biologico ragazzi io vi saluto qui poi mi raccomando sempre in gamba prodotti bio pollici in su iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima un abbraccio a tutti da piergiorgio ciao ragazzi